Ci sono i collaboratori, Mantile e Marco, che facciamo parte dell'Abruzzo Sport in Turre, che è la società che organizza l'evento della finale nazionale. La finale nazionale si giocherà dal 28 maggio, dal pomo vincito del 28 maggio, fino alle 2 giugno. La mattina alle 11, ad Arba Adriatica, in via degli Oleanni, al palzetto dello sport, le finaliste, prima e secondo posto, si combatteranno per aggiudicarsi lo scolettacolo. Si giocherà su quattro campi, all'Adriatica, Martinsicuro, Colonnella e Lankarano. Saranno 28 squadre, rappresentanza di tutte le regioni di Italia, e a 337, che si riferiranno al battaglio, sul nostro territorio della Pallumbrata, per questo grande evento di Pallapolo Giorgio.